Sì, studio sì, ma anche curiosità, attenzione poi ai dettagli. Tantissime soluzioni che oggi abbiamo applicato ai nostri lavori derivano da cene a ristoranti, da viaggi, da librerie, da situazioni dove raccogli tanti piccoli dettagli che fai tuo e poi li ricordi e li riproponi quando c'è l'occasione appunto del progetto che necessita di questo. Tanti anni fa, in un bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme in Giappone, ci siamo accorti di questa tecnica di piega molto molto particolare che in Giappone era in uso e qui non se ne conosceva neanche l'esistenza, quindi l'abbiamo importata come tecnico un'idea e oggi oltre a trovarla in fotografica si è diffusa su tutto il mercato, quindi abbiamo portato anche delle nuove soluzioni nel mondo della carta che non esistevano.